Incidente mortale nell'Arettino a perdere la vita è stato un 39enne ed è rimasta ferita una donna di 49 anni. È successo alle 10.27 nella frazione di Mercatale Valdarno, comune di Buccine. Si è trattato di uno scontro frontale tra due auto. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della misericordia di Lucignano, un'ambulanza della misericordia di Teranova Bracciolini e un'auto medica del Valdarno. Sono arrivati anche i vigi del fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti e i carabinieri di Buccine per i rilievi di legge. Per l'uomo di 39 anni non c'è stato nulla da fare, ha perso la vita sul colpo e i sanitari hanno soltanto potuto constatarne il decesso. Mentre la donna di 49 anni è stata soccorsa e trasportata all'ospedale della Gruccia in Valdarno.